Sì, è un obiettivo importante che sta cominciando a questo punto veramente a prendere forma. Sarà pubblicata a breve, entro il mese di aprile, la gara di progettazione europea per la progettazione appunto di questa passerella scilopedonale che collegherà le due rive dell'Arno, da Oltrarno al centro storico. Un'opera tanto attesa da tanti anni da chi risiede nell'Oltrarno perché consentirà di poter attraversare il fiume sia con la bicicletta sia a piede senza avere il disturbo o l'ingombro delle automobili. Questo sarà possibile grazie a una convenzione che abbiamo sottoscritto a fine 2022 con Autostrade per l'Italia nell'ambito delle opere di compensazione per la realizzazione della terza orsia autostradale che passerà anche dal nostro territorio tra Caselli di Incisa e Valdarno e sulla base della quale ci sono stati assegnati 6 milioni di euro per realizzare questa infrastruttura. Un obiettivo importante veramente raggiunto, io sono molto molto soddisfatta perché concludo questo mandato amministrativo con l'inizio di un'opera importante e sarà sicuramente una delle opere pubbliche più importanti che San Giovanni Valdarno vede negli ultimi 10-20 anni. Certo, sì sì, noi abbiamo fatto fare uno studio da un professore universitario preliminare per poter dare, diciamo, del materiale a disposizione dei concorrenti, dei progettisti in cui sono state ipotizzate diverse soluzioni. L'attraversamento dell'anno, io lo chiamo così, potrebbe concretizzarsi sia in una passerella indipendente affiancata al ponte con o senza delle pile, diciamo, nell'alveo del fiume oppure anche in strutture che si possano appoggiare al ponte esistente e alle sue pile o da un solo lato o anche da entrambi i lati quindi con una simmetria, con un percorso che si può muovere in due direzioni diverse. La scelta di questa soluzione dipenderà sia dalla qualità tecnica dell'intervento cioè da come si rapporta con il ponte esistente, dal risultato, diciamo, strutturale ma anche da come la proposta si integrerà con il territorio quindi da come si collegherà con le ciclopiste esistenti con il parco dell'anno, con i punti di attacco a terra. I tempi, diciamo, sono in linea di massima noi contiamo di pubblicare il bando entro alla fine del mese abbiamo 60 giorni a disposizione dei concorrenti per preparare le proposte quindi arriviamo alla fine di giugno sicuramente ci sarà una commissione di esperti che dovrà lavorarci per due o tre mesi e quindi diciamo che dopo l'estate potremo avere già l'individuazione del progettista che poi si metterà a lavorare per preparare un progetto piuttosto corposo che potrebbe essere pronto nel 2025 diciamo a metà del 2025 se tutto va come deve andare o anche un poco dopo dopodiché ci sarà da realizzare un'opera che ovviamente richiede dei tempi lunghi non meno di due anni insomma per essere messa a punto. grazie a tutti